Sua eccellenza, festa di San Giovanni Battista, edizione 2023. La figura di San Giovanni è talmente potente, talmente forte, talmente attuale che anche i giovanissimi la sentono, questa figura, questo messaggio che ci arriva sempre più forte, sempre ogni anno, sempre di più. È il viaggio nella legalità. Sì, San Giovanni attira perché è un uomo vero, è un uomo potremmo dire tutto ad un pezzo, perché con la sua testimonianza ha davvero smosso i cuori di coloro che lo ascoltavano, perché è riuscito ad andare in profondità nella coscienza dell'uomo, laddove c'è sempre un fondo di bene, laddove c'è sempre qualcosa di buono, anche nel più grande peccatore di questo mondo. Allora Giovanni è stato capace proprio di tirar fuori quel bene, quel buono, quel bello, quel vero che c'è nel fondo di ogni cuore e farlo emergere. Stasera proprio questo vogliamo chiedere a San Giovanni, che ci dia proprio questa capacità di attingere a noi stessi per ritrovare la verità di noi stessi e quindi ritrovare la gioia di vivere la vita cristiana ma anche la vita nella comunità civile. Allora viva San Giovanni! Viva San Giovanni, viva!